Life Infected with Social Theater. E questo è il titolo dell'edizione 2022 di Quartieri di Vita, il festival di formazione teatro sociale organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival con il sostegno della Regione Campania. A Palazzo Santa Lucia la presentazione dell'evento di formazione teatrale sociale sempre più europeo che nel corso degli anni ha tracciato un cammino che ha portato i partecipanti, ai laboratori ad acquisire professionalità utili per l'inserimento lavorativo a pieno titolo nel settore teatrale, in qualità di scenografi, costumisti o tecnici. 11 gli artisti internazionali in sinergia con gruppi teatrali che operano nelle periferie del territorio campano, 11 i paesi europei ospitati che coinvolgeranno tutte le province campane in questa settima edizione guidata ancora da Ruggero Cappuccio. Parliamo della Romania, della Francia, della Germania, della Lituania, del Belgio, raggiungono la Campania, entrano in collaborazione con gruppi di Napoli, di Benevento, di Avellino, di Caserta, lavorano a processi teatrali e culturali inerenti, soprattutto le fasce deboli. Le cosiddette fasce deboli, cioè i detenuti delle carceri minorili, le donne vittime di violenza, gli immigrati, i rifugiati politici, gli adolescenti a rischio, sono coloro i quali hanno una maggiore necessità del ritrovamento del concetto di relazione e del concetto di identità. E dunque questa è l'esperienza messa in campo quest'anno con la collaborazione e il sostegno fortissimo della Regione Campania, con la collaborazione del Ministero dei Beni Culturali, del Ministero per gli affari esteri, delle ambasciate, degli istituti italiani di cultura all'estero.